C'era una volta un ricco mercante, la cui figlia preferita si chiamava Belle. Durante una tempesta, il mercante perse le sue ricchezze e la sua famiglia cadde in miseria. Ma la fortuna tornò a sorridergli. Siamo salvi, figli miei! Ci servono abiti nuovi, profumi. Facciamo una lista. Non dimenticate nulla. E a te che cosa porto? Mi basta una rosa. Smarritosi nella foresta, il padre fece una scoperta che avrebbe avuto conseguenze imprevedibili. C'è nessuno! Incredibile, c'è tutto. Tranne una cosa. Non hai preso abbastanza? A chi è destinata questa rosa? A la più giovane delle mie figlie. La bestia ha detto una vita per una rosa. E se voi non gli obbedite? Moriremo allora. Tutti. Belle! No, padre! Conducimi al castello. Portami dalla bestia. Mi chiamo Belle. Sono venuta a dare la mia vita in cambio di quella di mio padre. Non provate a scappare. La foresta si richiuderebbe su di voi. A chi appartiene il castello? Tutto quello che è qui mi appartiene. Parlate come un uomo qualsiasi. Mi deludete. Potrei soddisfare ogni vostro desiderio. Avete il mantello di un principe, ma siete una bestia crudella e solitaria. Cosa sapete di me? Nulla! Avete ragione. Raccontatemi del vostro passato. Sono molto diverso da come ero. Lasciatevi andare. Proviene dal castello abbandonato. Se ti accompagno, recuperi il resto del tesoro e annulli il mio debito. Siete libera. Se non tornerete, ne morirò. Tornare da lui è il mio unico scopo. L'unico desiderio. La bella è la bestia. E anche questo video ci è piaciuto molto. Udite, udite. La voce che circola ad Olivo ad attualmente riguarda il riadattamento della serie TV Supercar prodotta da Weinstein Company. Per il ruolo da protagonista si fanno due nomi. Secondo il sito web Schmose Know, Chris Pratt e Danny McBride sono in trattative per entrare nel progetto. Pratt potrebbe prendere il ruolo che era di David Hasselhoff e recitare nei panni naturalmente di Michael Knight. Mentre McBride potrebbe doppiare kit, cioè la macchina parlante. Nulla però è stato ancora confermato e noi, naturalmente, vi terremo aggiornati. Voi intanto iscrivetevi se non l'avete ancora fatto al nostro canale YouTube, per essere sempre sempre aggiornati sulle ultime novità in uscita. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!